allarme rosso di marco scalcione per minibombo edizioni oh oh che succede? allarme rosso! allarme rosso! allarme rosso! appena sentono allarme rosso le formiche scappano via allarme rosso! e via tutte scappano allarme rosso! via 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 di corsa allarme rosso! e via scappano anche queste allarme rosso! allarme rosso! allarme rosso! aaaah! e scappa via anche lui lasciando il megafono e tutti scappano veloci ma dove vanno? ecco! che cos'era allarme rosso! avevano trovato una mela rossa! e adesso che succede? allarme giallo! un grido di allerta risuona in tutto il formicaio allarme rosso! ma di quale emergenza si tratterà? aaaah! aaaah! aaaah!